Amici carissimi, ben ritrovati, vogliamo chiudere il 2015 in grande stile, allora non perdiamoci l'appuntamento con le grandi opportunità firmate Luciano Moto, ormai lo sapete una delle più grandi realtà commerciali che abbraccia il mondo dei motori a pochissimi passi da Torino. Precisamente ci troviamo a Casalgrasso e come sempre al nostro fianco il nostro deuses macchina Dennis che ci ricorda l'indirizzo. Ciao, ben trovato. Ciao Palmo, ben trovato te, ben trovato tutti. Ricordo l'indirizzo che è Casalgrasso sulla statale che collega Torino a Saluzzo, precisamente via Circonvalazione 49, a pochissimi passi dall'uscita della tangenziale di La Loggia o dell'autostrada di Carmagnola. Abbiamo detto ultimo appuntamento dell'anno, è sempre l'appuntamento più speciale, si chiude un capitolo ma ci sono grandi novità, già un po' il position per l'anno nuovo, c'è voglia di festa, voglia di vacanze e soprattutto voglia di viaggiare. Viaggiare in libertà è proprio il motto di Luciano Moto, libertà nel scegliere l'oggetto dei vostri desideri e soprattutto libertà nel pagarlo. Operazione 50, Dennis. Verissimo, la famosa operazione 50%, la tanto chiacchierata operazione 50%, una delle operazioni migliori che abbiamo mai tirato fuori, vi dà l'opportunità di acquistare la vostra motocicletta nuova usata qui da noi pagandola solo la metà e a distanza di due anni, senza alcun impegno, decidere se tenerla, sostituirla con enormi vantaggi o restituirla. Questo è valido finanziando, è valido pagando cash, avete totale libertà di scelta. Benissimo, non solo libertà di scelta per quanto riguarda i pagamenti abbiamo detto, qui da Luciano Moto sono i dettagli a fare la differenza, non solo voglia di vendervi il prodotto di altissima qualità ma vendervelo alle migliori condizioni di mercato e soprattutto effettuando sia la permuta che l'acquisto del vostro usato. Certo, è importante parlare di permuta perché siamo tra i pochi che effettuano il cambio con auto e moto, moltissime volte siamo disponibili a potervi dare la differenza nel caso in cui la vostra permuta valga di più rispetto a quello che scegliete, abbiamo l'opportunità di finanziare il vostro nuovo acquisto e pagarvi per contanti ciò che ci state dando indietro e soprattutto abbiamo l'opportunità di cambiare auto con moto e moto con auto. Questo è importante, lo sottolineo per chiunque volesse dare indietro la vettura con le migliori valutazioni in questo periodo dell'anno non proprio congruo all'acquisto della moto, noi siamo disponibili a motivarvi e a darvi le migliori valutazioni sul mercato per la vostra auto in cambio di una nostra moto. Anche perché Denis non siamo solo in un clima festivo ma siamo anche nel periodo dei saldi e qui da Luciano Moto sono già iniziati non solo per tutti i prodotti che troverete qui in pronta consegna e in esposizione ma anche per il reparto abbigliamento e accessori. Certo abbiamo un reparto abbigliamento e accessori fornitissimo, tantissimi regali da poter ideare per i vostri amici o familiari, avete l'opportunità di avere fortissimi sconti dei prezzi favolosi e soprattutto avete l'opportunità anche di comprare delle card a regalo nel caso in cui non vi venga in mente che cosa può fare al caso della persona alla quale volete fare il regalo ma potete tranquillamente fargli un buono. C'è anche da dire che oltre all'abbigliamento e accessori in saldo ci sono anche le motociclette come diceva Palma, abbiamo il reparto outlet tutto l'anno ma in questo periodo sia il reparto outlet che il reparto classico gode di fortissimi sconti. E' giusto che veniate in sede per poterne parlare, i prezzi sicuramente saranno ribassati al massimo e vi verrà data l'opportunità di abbinare dei forti prezzi a un tasso favoloso qualora vogliate finanziare. Quindi dei finanziamenti a tasso agevolato personalizzati. Bene, Luciano Moto ama distinguersi, ama offrire alla clientela sempre di più e in effetti per voi una grandissima novità per il 2016. Per tutti gli amici motociclisti amanti del brand Kawasaki ve lo dico ufficialmente, Luciano Moto diventerà concessionario ufficiale Kawasaki. Assolutamente sì, Luciano Moto dal 2016 sarà uno dei partner Kawasaki con tutta la gamma in pronta consegna, con dei fortissimi prezzi. Sicuramente anche tutta la gamma Kawasaki sarà legata all'operazione 50% ma molte altre novità su prezzi e promozioni ve le sveleremo a partire da gennaio. Kawasaki è uno dei marchi migliori, offre prodotti di altissima gamma ma anche prodotti per neopatentati e uno dei marchi più completi e Luciano Moto è fiera di farne parte proprio a partire da gennaio. Luciano Moto è fiero non soltanto di ospitare tutta la gamma Kawasaki e di diventarne concessionario ufficiale ma è anche fiero di avere per voi i mezzi più particolari e in effetti non solo moto, non solo le auto classiche ma anche le mini vetture, le auto che stanno riscuotendo un enorme successo e soprattutto camper, imbarcazioni. Qui da Luciano Moto ve lo ripeto, il mondo dei motori non ha segreti. Assolutamente sì, abbiamo un po' di tutto, abbiamo qualche camper, abbiamo qualche veicolo commerciale, qualche piccola imbarcazione, un gommone un po' più impegnativo, spero stiano scorrendo le immagini, vedete che qua c'è davvero di tutto, abbiamo anche come anticipava Palma delle micro vetture sia nuove che usate, contiamo un gran numero di questo prodotto perché è un prodotto in via di sviluppo, da qualche anno a questa parte sono diventate delle vere e proprie auto, non solo chi è senza patente le acquista ma le acquistano tutte le persone che hanno voglia di avere enormi risparmi, enormi vantaggi nel poter circolare nella zona ZTL piuttosto che avere dei consumi bassissimi di gasolio o avere un'assicurazione, un bollo veramente ridotti rispetto a una qualsiasi auto, sono delle vetture sicure, sono delle vetture ultimamente molto belle da poter vedere e sono delle vetture molto valide, noi come dicevo abbiamo nuovo e usato e l'opportunità di vendervele con l'operazione 50%, quindi pagare la metà di qualsiasi prodotto, prodotti anche economici da 5-6 mila euro, voi li pagherete 3 mila euro e a distanza di due anni cercherete di capire se volete tenerla, sostituirla o restituirla, moltissimi vantaggi per voi. Bene, Dennis come sempre avrebbe voglia di parlare di Luciano Moto all'infinito ma il tempo stringe, c'è una scaletta preparata per voi proprio come ultimo appuntamento dell'anno, una scaletta speciale, la scaletta di Luciano Moto, state con noi. Partiamo con un prodotto particolarissimo qui da Luciano Moto, uno splendido Bigfoot, si parla di un GMC, un K1005, un 5.700 di cilindrata con bassissimi costi di gestione, già è scritto ASI, anno 89, veramente ridicolo il costo del bollo e dell'assicurazione annua, privo di controlli fiscali e ci spostiamo su uno splendido RAM, si parla di un 5.7 motorizzato EMI dotato di impianto GPL, un autocarro, quindi anche questo privo di controlli fiscali e con soli 30 euro di bollo annuo, gomme da 20, da 22, da 24 omologato, copre cassone allestimento limited, soli 57 mila chilometri. Prezzo formidabile, veniteci a trovare per scoprire qual è. Continuiamo con fuoristrada qui da Luciano Moto, si parla di uno splendido Tata per partire con la carrellata, abbiamo un 2.2 turbodiesel motorizzato Dicori, nuovo in motoritata, pochissimi chilometri, unico proprietario, un prezzo formidabile. Si continua con un prodotto unico proprietario, uno splendido Ford, si parla di un Kuga allestimento Titanium, con navigatore satellitare, cerchi lega, sensori parcheggio, pochissimi chilometri, anno 2013. Continuiamo con un DR5, un mini SUV, motorizzato 2000 con impianto GPL di serie, quindi esente da bollo, soli 33 mila chilometri, versione full optional, a un prezzo formidabile sotto i 10 mila euro. Continuiamo ancora con un 4x4, si parla però di una Fiat 16, un prodotto tutto italiano, motorizzato, 1.9 turbodiesel 4x4, pochissimi chilometri, gommato a nuovo, tagliandato e permutabile col vostro usato. Prima di andare nel reparto al coperto presentiamo un ultimo fuoristrada formidabile, un Range Rover dotato di impianto GPL, un limited edition, veramente bassissimi costi di gestione ora col GPL, interamente tagliandato, gommato a nuovo, a un prezzo stratosferico. Ci si sposta ora su un prodotto più classico, un prodotto pari al nuovo, aziendale, si parla di Citroen, un DS3, soli 3.300 chilometri, per questa versione cabrio, ovviamente full optional, a un prezzo formidabile. Anche questo prodotto in via eccezionale, soggetto ad operazione 50%. Tantissimi prodotti particolari qua ad Oceano Moto, partiamo con dei cabrio, cabrio d'epoca, uno splendido 320, continuiamo con Mazda, Fiat Barchetta, uno splendido SLK full optional con pochissimi chilometri automatico, prodotti particolari, special, come un Golf o una fantastica Polo, guidabile addirittura da neopatentati. Abbiamo moltissimi prodotti economici, ma garantiti, prodotti da città, abbiamo Alfa Romeo, diversi tipi, 146, 147, 3,5 porte con GPL, diesel, parliamo di Fiat, stiamo parlando di Bravo, turbo diesel e benzina, turbo benzina per la precisione, una splendida Smart 4-4, una fantastica punto molto economica per neopatentati, una Ibiza con allestimento Cupra, impianto GPL guidabile da neopatentati, un prodotto pari al nuovo, una fantastica Mini Cupra S, si parla di un prodotto full optional con pochissimi chilometri, tagliandata e garantita, una spettacolare Peugeot, si parla di un allestimento GTI, una versione Le Man originale, unico proprietario con 60.000 km, Audi, si parla di un turbo diesel per questa A3 dotata di cambio automatico, un turbo benzina per quanto riguarda questa TT, versione full optional con cerchi da 18 interni in pelle rossi, davvero fantastica, splendida questa Audi A5 allestita totalmente S5 con soli 20.000 km, 1.800 turbo, sempre parlando di A5, una S5 per la precisione 4 e 2, veramente una vettura fantastica, tutta tagliandata ad un prezzo formidabile, ricordo che Luciano Moto ha anche altre vetture d'epoca per la precisione, parliamo di Lancia, parliamo di Volkswagen, abbiamo una splendida bianchina, abbiamo tante vetture particolari, un po' tutte le cifre e ci soffermiamo sulle ultime due, parliamo di Jaguar, parliamo di Audi, due prodotti molto particolari, economici ma di sicuro interesse storico, veniteci a trovare e vi diremo di più. Siamo giunti al termine, come anticipato in apertura abbiamo bisogno delle vostre auto, chi venisse in questo periodo ad acquistare da noi una moto dando indietro un'auto godrà sicuramente delle migliori valutazioni e siamo disponibili ad acquistare anche la vostra auto per contanti. Ci siamo tenuti per la fine le migliori auto, partiamo da uno splendido M3, è introvabile in queste condizioni, interamente tagliandato in BMW, parliamo di un'auto più particolare, un'Audi RS4 2.7 B-Turbo, formidabile, con carne tagliandi Audi, una splendida 147 GTA, da 250 CV, rigorosamente tutta originale, un'introvabile Chrysler Crossfire Limited Edition con cambio automatico, un Anismo, una Limited Edition, si parla di una Z350 con pochissimi chilometri, tenuta maniacalmente, una carrellata su Porsche, abbiamo uno splendido Boxer, abbiamo uno splendido 996 Turbo Cabrio Conartop, versione da 450 CV a libretto, uno splendido 997 Turbo, si parla di una seconda versione da 500 CV con cambio PDK, soli 20.000 km con IVA esposta, un Ferrari fantastico, abbiamo molte altre vetture, siamo giunti purtroppo al termine, passo il microfono a Palma, vi saluto e vi aspetto numerosi. Che dire amici, Luciano Moto è un'istituzione nel campo dei motori, da oltre 30 anni sul mercato, per offrirvi sempre il meglio, lavora costantemente per trovare soluzioni giuste per voi, grande novità per il 2016, anche concessionario Kawasaki. Penso di aver detto tutto, tutto ciò che non avete visto in trasmissione, potete andarlo a visionare sul sito, per qualsiasi cosa siamo disponibili telefonicamente o via mail, vi aspettiamo numerosi come sempre. Il sito è lucianomoto.com, l'indirizzo via circonvalazione 49 a Casagrasso, un ringraziamento particolare a Dennis e tutto lo staff di Luciano Moto a cui auguro buone feste, un ringraziamento a voi che ci seguite sempre con molta attenzione, vi ricordo di scaricare la nostra app gratuita di Motori TV per rimanere sempre aggiornati sui nostri concessionari di fiducia. Alla prossima! Grazie! Grazie!